Le vostre mani unite e gli anelli che vi scambierete sono pegni dell'unione delle vostre cuori e della vostra vita. Io Emanuele Cordaro ricevo te, Jessica Nicola, come mia legittima sposa e prometto di amarti, di proteggerti, di sostenerti nella fede del Signore. Qualunque cosa ti accada nel bene e nel male, nella ricchezza e nella povertà, nella malattia e nella salute. Io, Jessica Nicola, dicevo te, Emanuele Cordaro, come mia legittima sposa, prometto di amarti, proteggerti, sostenerti nella fede del Signore. Qualunque cosa ti accada, di bene o di male, nella ricchezza o nella povertà, nella malattia o nella salute. Grazie a tutti. Voi siete uniti nel salvo ritmo del patrimonio, davanti a Dio e davanti ai voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vi dichiaro pertanto che da questo momento voi, Emanuele e Jessica, siete marito e voi. Grazie a tutti. 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 non più due ma uno è quello che Dio ha congiunto l'uomo non osi separare voi siete marito e moglie grazie a tutti